tunnel di torsa dal 2 settembre nuovi orari dalla prossima settimana dunque riprenderanno i lavori fino al 29 settembre la galleria rimarrà chiusa al traffico nei giorni feriali dalle 6 di lunedì alle 18 di venerdì sarà garantita l'apertura nei due sensi di marcia durante tutti i fini settimana dalle 18 del venerdì alle 6 del lunedì successivo in seguito dal 30 settembre al 30 aprile del 2025 la galleria rimarrà chiuso tutti i giorni nelle ore notturne dalle 20 alle 6 la mattina seguente da lunedì prossimo 2 settembre entrerà in vigore il nuovo orario di apertura del tunnel di torsa al centro di un vasto intervento di messa in sicurezza delle infrastrutture di riammodernamento dei impianti da parte di anas dopo lo stop del cantiere con l'apertura continuativa del mese di agosto concordata con il territorio per favorire flussi turistici dalla prossima settimana riprenderanno i lavori fino al 29 settembre la galleria rimarrà chiusa al traffico nei giorni feriali dalle 6 di lunedì alle 18 di venerdì sarà garantita l'apertura nei due sensi di marcia durante tutti i fini settimana dalle 18 del venerdì alle 6 del lunedì successivo in seguito dal 30 settembre al 30 aprile del 2025 la galleria rimarrà chiusa tutti i giorni nelle ore notturne dalle 20 alle 6 del mattino seguente verrà quindi riconvocato il tavolo tecnico di confronto per fare il punto sull'avanzamento dei lavori e valutare insieme ai comuni e a regione Liguria le fasi successive l'intervento nel tunnel di torsa che si sviluppa su circa due chilometri sulla strada statale 523 del collo di centocroci tra le province di genova e la spezia e quindi tra i comuni di castiglione chiaverese maissana si è reso necessario al fine di mettere in sicurezza la struttura e l'impiantistica della galleria nei periodi di chiusura della galleria la viabilità viene spostata sulla strada provinciale 40 su alcuni tratti della strada comunale di maissana del santuario di velva e sulla strada provinciale 566 i lavori di restauro del tunnel madonna della guaglia sono stati finanziati da annas con un investimento totale di 29 milioni e 700 mila euro è stato condiviso ieri nel corso di un incontro tra il presidente facente funzioni di regione Liguria Alessandro Piana e il prefetto di Genova Cinzia Torraco lo schema d'intesa che dovrà essere approvato dalla giunta regionale dopo domani venerdì 30 agosto l'obiettivo è quello di definire le modalità di collaborazione con le prefetture Liguri per la gestione delle elezioni previste il 27 e il 28 ottobre sulla base dello schema d'intesa spetteranno a regione Liguria tutte le spese elettorali connesse alla gestione da parte delle prefetture delle elezioni comprese quelle relative alla retribuzione straordinaria del personale spetterà invece alle prefetture ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale il supporto e la collaborazione tecnico giuridica a regione Liguria Durante la seduta del consiglio comunale di Seste Levante di ieri sera è stata approvata all'unanimità la proposta di istituire una commissione consultiva su Portobello a cui è seguita l'approvazione dell'emendamento proposto dal gruppo consegnare Solinas Sindaco ricreando dopo oltre dieci anni un gruppo di lavoro finalizzato all'attenzione e alla cura e alla gestione della baia del silenzio. La commissione sarà composta da tre consiglieri comunali due di maggioranza Claudio Muzio e Luca Ballotta e uno di opposizione Gabriele Ovindo e da un membro di ciascuna delle seguenti associazioni Lega Navale Italiana, Ciclo Pescatori Direttanti Portobello, Club Azzurro Portobello, Club Sub Seste di Levante, Associazione Pescatori Professionisti di Seste Levante, Acquamanara 1968, Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Seste Levante, Civicarugi, Ascom Seste Levante e qualora istituito il consiglio di frazione e qualchiere competente nell'area della baia di Portobello Novità a Rapallo, i parcheggi sulla copertura del torrente San Francesco infatti diventano a disco orario L'amministrazione comunale infatti ha comunicato che a partire da sabato 31 agosto la sosta in via Milite Gnoto, vale a dire sulla copertura del torrente San Francesco, interessata in questi mesi da lavori, sarà consentita per un massimo di 90 minuti. Proprio questa mattina nei pressi degli stagli è stata installata l'apposita segnaletica che indica questa novità in città. Il Comune di Recco ha avviato una serie di interventi edilizzi urgenti per risolvere diverse criticità sul territorio comunale. I lavori necessari per eliminare criticità come griglie, chiusini smurati, cordoli stradali danneggiati e pericolose buche sull'asfalto stradale sono stati affidati alla ditta Edilco G. Tali opere sono essenziali per garantire la sicurezza del decoro urbano prevenendo potenziali incidenti e proteggendo l'incolumità dei cittadini, chiariscono il sindaco Carlo Gandolf e l'assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli. Considerata la complessità dei lavori che richiedono mezzi e competenze specifiche non disponibili internamente, abbiamo proceduto con l'affidamento ad una ditta specializzata attraverso la trattativa diretta tramite la piattaforma MEPA. Le opere sono state investite da parte del Comune di Recco 8.000 euro. Nei 400 metri misti individuale, commenta il presidente dell'associazione Amici del Cisoffre per preparare le gare e raggiungere gli obiettivi prefissati per poter partecipare al grande spettacolo che si rinnova ogni quattro anni e a cui tutti gli atleti aspirano. In Viale Casman a Chiavari si svolgerà domenica 1 settembre il primo trofeo Comune di Chiavari, la gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi dai 6-12 anni organizzata dalla Freeride Tiguglio. In totale saranno 7 le gare in programma per la mattinata, dalla categoria promozionale aperta a tutti passando dalla categoria G1 infine alla G6. Si inizierà alle 8.30 con la verifica delle licenze e la riunione dei direttori sportivi per poi iniziare a partire dalle 10 con le gare. Infine a mezzogiorno la manifestazione si concluderà con le premiazioni, saranno previste alcune modifiche alla viabilità. Dalle 6 divieto di sosta con rimozione forzata e dalle 8 a mezzogiorno divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli. Ad esclusione dei veicoli autorizzati dall'organizzatore in entrambi le carreggiate di Viale Casman, il tratto ricompreso tra la rotonda al lato nord e la rotonda al lato sud. Inoltre verrà sospeso il provvedimento di senso vietato in via Piacenza, altezza civico 243 direzione Montimare.